Avvocato Di Giacomo, direttore area tecnica del Termoli Calcio, un pareggio che va stretto a questa squadra soprattutto perché la partita era condotta dall'inizio alla fine, ha fatto un grande primo tempo, anche un buon inizio al secondo tempo poi è calata un po' la distanza, però poi nella parte finale del secondo tempo è uscita fuori la grande Sì, sicuramente abbiamo fatto una grande partita a merito dei ragazzi, del mister che hanno preparato bene la gara Meritavamo di più, penso che sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo subito un tiro in porta verso la fine del primo tempo, forse lì siamo stati un attimo più superficiali, abbiamo creato tanto anche alla fine col colpo di testa del capitano, potevamo passare in vantaggio, è un punto che però lascia la mano in bocca però allo stesso tempo ci dà anche l'idea e ci dà coraggio nel futuro perché fa capire che questa squadra questa squadra c'è, il gioco c'è, i giocatori ci sono, anche oggi un grandissimo gol di Hernández la squadra è unita e va avanti verso il proprio obiettivo Ho visto un po' di bocche cucite alla fine della partita, forse anche un po' di malumore per il pareggio tutti cercavano la vittoria Eh sì, sicuramente capisco i ragazzi, ma anche io, anche tutti quanti sono arrabbiati perché cercavamo la vittoria perché la meritavamo la vittoria, perché poi il pareggio può essere anche un buon punto se avviene in un altro modo però come è avvenuto il nostro pareggio, dove abbiamo giocato benissimo, dove abbiamo creato tanto dove per tutta la partita siamo stati padroni del campo, ovviamente lascia tanta amarezza i ragazzi sono giovani, quindi magari la devono gestire, noi che magari ne abbiamo visto qualcuno in più sappiamo che questo però deve darci ottimismo per il futuro, perché la Serie D è un campionato lunghissimo è un campionato molto molto lungo, quindi alla lunga il gioco, le qualità, l'unione tra il mister, la società e la squadra sicuramente si faranno valere Possombrone, prossima tappa, campo difficile, squadra che sta nella zona alta della classifica una squadra che arriva dal campionato di eccellenza, però questo Termoli ha l'occasione giusta per potersi riscattare definitivamente Assolutamente, questo campionato è un campionato molto difficile, nel senso che si può vincere e perdere con tutte le squadre così come questo Termoli può vincere e perdere con tutte le squadre a seconda dell'atteggiamento che ha, a seconda della fame che ha quindi noi sicuramente come tutte le partite andremo lì per fare la partita, per giocare, andremo lì per vincere poi il campo ci dirà e affronteremo ovviamente la partita con il massimo impegno